24 ore in musica Laura raccogliamo qui tutte queste cose qui ci sono un po' di cappelli, dette, cure, difficoltà ormai questo capisci niente ah chi sei? ah sei tu? mamma mia te l'hai giocata male questo scritto? il mondo è la visione ehi attenzione Fabrizio è finire su youtube ragazzi altro che è un macio eh un macio è un macio un macio è un macio ce l'ho io ma i sali sulla sedia anche se vuoi ma ci sali nel capelli oh ragazzi altro che ok ok grazie a tutti